salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale fa legname abbiamo creato dei nostri loghi adesivi per dare un nome alle nostre macchine stazionali del nostro laboratorio iniziamo appunto a mettere a dare un nome a mettere un logo alle nostre macchine stazionali il nome appunto e questo fa legname seguitemi il primo utensile ad avere un nome sarà il nostro tornio e lo piazzeremo proprio qui ecco il nostro primo logo piazzato un altro iniziamo sopra alla nostra macchina per levigare qua lo mettiamo sopra proprio quale comune si qui qui Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non poteva vincere lui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.